Amici, qua siamo in una miniera, siamo in Sicilia, terra dove c'è la disoccupazione giovanile al 60%, ma il buon Dio e la fatica della gente è questo, questo produce, questo che l'Europa ci vuole togliere dalla tavola perché preferiscono le arance marocchine, i pomodori tunisini, l'olio tunisino, il riso cambogiano, il grano canadese. C'è gente che resiste, che coltiva, che si alza alle 4 della mattina, che si sporca le mani, che si spacca la schiena, che non può andare in pensione a 67 anni e io faccio, ho già fatto e farò di tutto una volta il governo per difendere questa bontà che è salute, che è cultura, che è identità, che è lavoro, che è tutela del nostro territorio. In Sicilia come in Italia non c'è niente da inventare, c'è da difendere quello che qualche multinazionale, qualche grande industria a Bruxelles con la complicità di governi incapaci e infami in Italia sta cancellando. Quindi ancora qualche mese poi conto di tornare con il ruolo di governo qua a dire abbiamo difeso, abbiamo rilanciato l'oro della nostra terra, i nostri figli questo, devono poter mangiare e bere, non quello che l'Unione Europea ci impone sotto costo, senza controlli, che arriva dall'altra parte del mondo. È lavoro, è salute, è futuro. Mangiamo italiano, compriamo italiano, consumiamo italiano.